Aspetti un momento, scusa. Mamma? Mamma? Scusate. Avanti. Su, vieni. Che vuoi fare? Una foto. Buonasera. So che tutti voi mi conoscete. Sono Jonier Leal. Sono il fratello di Maurizio. Sono molto emozionato. Voi sapevate che Maito ha iniziato come sciampista a Cali? Voleva diventare un hair stylist e io gli dicevo Maito, devi inseguire i tuoi sogni. E lui mi ha dato retta. E non solo l'ha fatto, ma soprattutto ha coinvolto anche tutti noi nel suo sogno. Grazie a Maurizio ora, io sono il miglior specialista del colore del paese. Grazie. 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 Grazie.